rieccomi ancora con voi allora sono partite tante nuove promozioni che dureranno fino al 2 di dicembre mi raccomando non aspettate l'ultimo momento vi prego sono prodotti alcuni che non sono in catalogo quindi quando finisce la disponibilità non ce ne sono più e da dove comincio allora la prima promozione non ho il disegno che è in promozione tanto sapete che vi metto il volantino è il nostro tutto fresco rotondo io questi listra adoro sono completamente ermetici io ce l'ho entrato il pangrattato vanno benissimo in frigo in dispensa per il trasporto sono eccezionali questo grazie al fatto che nel sigillo il sigillo ha il bordo in silicone quindi sono veramente ermetiche a tutto per chiuderle mi raccomando fate bene giro finché non sentite più tac allora sconsiglio di lavare in davastoviglie ovviamente il sigillo perché c'è il silicone e il contenitore perché potrebbero rovinarsi i disegni mi raccomando niente cose calde dopodiché metteteci quello che volete io ci ho messo il pangrattato ma biscotti cracker salatini pasta farina riso insomma quello che vi pare però sono dei contenitori veramente eccezionali poi altro prodotto in promozione la nostra fantastica centrifugabibip ve l'ho spiegata mille volte ma se volete conoscere in modo più dettagliato tutti questi prodotti unitevi al mio canale whatsapp io vi aspetto sempre la perché la faccio tante belle cosine tanti bei video che non vedete da nessun'altra parte altra promozione è il nostro bricco mix da un litro insieme all'aiuto cuocca ecco perché ve l'ho fatta vedere ovviamente un colore diverso però non fa nulla al bricco mix anche questo l'ho spiegato tante volte l'aiuto cuocca per me è indispensabile e anche questi se volete conoscerli meglio venite sul mio canale altra promozione è il nostro fantastico micro in forma per fare frittate omelette ma non solo perché per esempio potete fare anche del pesce delle verdure eccetera in microonde è comodissimo poi un must vita per il nostro fantastico turbo maxi è più grande del turbo chef perché oltre alla lama in dotazione c'è anche l'elica cosa vuol dire che possiamo fare anche montare gli albumi fare la maionese montare la panna fare impasti morbidi tipo crepe crespelle pancake fare la frittata magari solo con uova pangrattato formaggio un po di prezzemolo sale pepe semplice e poi la mettiamo nel nostro micro in forma e è comodissimo è pratico anche questo è graduato qui le lamme mi raccomando non vanno in davastroviglie ma anche il contenitore perché il fondo è in silicone per non farlo scivolare mi raccomando questa non va mai immersa in acqua la parte con la corda c'è il bottoncino la aprite e la parte sotto se volete la potete anche buttare lavastoviglie non è un problema ma la parte con la corda mi raccomando non va immersa in acqua e cosa ci potete fare potete tritare emulsionare amalgamare montare fare piccoli impasti morbidi è veramente un grande aiuto in cucina e soprattutto è ecologico perché non va ad elettricità ma via la luce e devo tritare la cipolla come faccio ecco la soluzione c'è ovviamente il proteggi lama così non rischiate quando lo mettete via aspettate ecco qua si blocca così molto semplice e lo rimettete via inserite le sue belle bustine e lo chiudete devo litigare un altro però va bene è in promozione fino al 2 dicembre io c'ho sempre il mio va de me comunque di fianco già in promozione la nostra bellissima snella brocca snella da due litri col filtro insieme alla brocca da un litro sono comode ci si possono mettere che ne so la spremuta d'arancia perché così il filtro trattiene magari semini magari le parti un po più polpose i bambini danno fastidio e ci potete fare l'acqua aromatizzata delle tisane fredde ovviamente fresche a temperatura ambiente ma non calde ci potete anche mettere che ne so il vino la birra l'aranciata al mojito insomma quello che volete ci sono persone che utilizzano quella da due litri per il riso ovviamente senza il filtro e sono delle belle brocche comunque sono molto comode molto pratiche poi abbiamo in promozione il set beauty col turbante in microfibra set beauty per andare a rimuovere il trucco fare la pulizia del viso senza dover usare detergenti e soprattutto senza dover usare i dischetti di cotone quindi anche qua andiamo a favore dell'ambiente questi li potete lavare in lavatrice col sapone di marsiglia a mano vengono sempre puliti sono comodissimi avevo fatto dei bei video dove facevo vedere proprio rimuovere il trucco e anche la tinta dei capelli il turbante ovviamente in microfibra permette ai nostri capelli di asciugarsi ancora più in fretta poi abbiamo in promozione le tazze nuove classici col sigillo non ci vanno cose calde mi raccomando o comunque temperatura ambiente tiepide ma non calde però hanno sigillo quindi ve le potete anche portare in giro sono da 350 ml e poi abbiamo in promozione le posate baby sono cucchiaio e forchetta per i nostri bimbi piccoli proprio per insegnargli a mangiare con le posate sono due set e poi invece c'è il cucchiaio con la custodia è il classico cucchiaino con cui diamo lo yogurt la frutta omogenizzata ai bimbi per merenda ma ce lo possiamo tenere anche in borsa visto che c'è la custodia e per finire io sto controllando di non dimenticarmi nulla abbiamo in promozione il nostro bellissimo break smart compatto quello per il pan bauletto per intenderci ma non solo ci potete mettere anche la baguette se volete come vedete sul coperchio c'è questo filtro che ovviamente quando andiamo lavarlo va rimosso soprattutto se lo mettete in lavastoviglie per rimuoverlo basta che spingete verso l'esterno e lui esce aspettate che lo facciamo insieme ecco qua basta premere e linguette e poi sollevare delicatamente mi raccomando non sforzate ecco qui vedete qui c'è il famoso condens control che permette al nostro pane di respirare e non diventare duro e non fare la muffa sapete che questi pani contengono alcol quindi una volta aperto vanno conservato in frigorifero lo mettete qua dentro perché è la misura perfetta per il pacco intero e in più c'è questo inserto che man mano che utilizzate le fette vi aiuta a mantenerle in piedi questo perché perché appoggiandolo nel frigorifero potrebbe formarsi della condensa sul forno se la fetta si appoggia diventa molle fa la muffa invece in questo modo rimangono tutte in piedi e poi volendo potreste mettere anche che ne so avete un po di uno un po dell'altro pane normale pane integrale mettete insieme è molto comodo molto pratico e permette al vostro pane di conservarsi più a lungo eccolo qua e va in frigorifero allora queste sono tutte le promozioni che ci accompagnano fino al 2 di dicembre ma vi ricordo che ce ne sono ancora tante altre che abbiamo lanciato inizio mese e anche in questo caso ve le allegherò tutte a fine video e mi raccomando se volete risparmiare ancora di più non dovete fare altro che attivare la vostra testa a sconto e se invece volete conoscere meglio questi prodotti vi aspetto sul mio canale whatsapp buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti